dei saluti sono volati questi due giorni insieme ragazzi, molto vero e adesso volate qui in studio con noi Maria Sola ciao ragazzi comunque tutto bene a 105 è sempre un'energia bellissima devo dire, bravi, bravi grazie è bellissima nuova squadra ieri vi ho ascoltati e vederli dal vivo devo dire che non fate lo stesso aspetto dal vivo no siamo molto meglio siamo molto meglio Maria Sola dice era meglio ascoltarli per radio perché se vengo in studio c'è Linda che puzza di cipolla ma basta con questa storia ragazzi, poi siamo in team maio o cipolla cipolla tutta la vita nessuno dei due nessuno dei due ragazzi, prendiamo tutte le nostre cose andiamo via, lasciamo posto a Maria Sola grazie lì da mani prossimo weekend, grazie Dario Micolani grazie Edoardo Mecca e salutiamo anche Davidino ciao, la chicia, Claudia salutiamo tutti vi diamo appuntamento a sabato e domenica prossimo in dalle 9 a mezzogiorno e allora rimanete con noi rimanete con me rimanete con me a Loves Music vi prego dai che c'è Maria Sola buona domenica ciao 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 ciao